Fu ostile. Ibn Taymaya, 1263-1328, teologo e giurista musulmano, massimo esponente della corrente che si riallaccia agli insegnamenti di Ibn Hanbal. Sotto l'urto delle invasioni dei mongoli, Ibn Taymaya si fece paladino della tradizione religiosa musulmana, consapevole del pericolo di disgregazione che minacciava la comunità islamica. Fu ostile verso i mistici, preferendo difendere l'aspetto legale e istituzionale dell'islam, mostrandosi molto duttile sulle questioni pratiche. Commento. Come tutti i razionalisti, Ibn Taymaya ha trascurato l'aspetto mistico della sua religione che per l'islam è il sufismo e ne è l'aspetto più avanzato.